La comunità di Maria Vergine a Santa Venerina in provincia di Catania ritrova finalmente la sua chiesa. Giorni fa, infatti, la riapertura della chiesa di Maria Vergine della Catena ferita e resa inagibile dal sisma del 2018 che aveva costretto la comunità a cercare una soluzione tampone utilizzando un salone per il culto e le attività pastorali. Terminati i lavori di consolidamento e recupero del prospetto seguiti dall'architetto Di Mauro, la frazione ha riavuto lo spazio di preghiera e di ritrovo. Per l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio di culto sono stati stanziati circa 120.000 euro finanziati per l'80% dalla conferenza episcopale italiana con il contributo 8 per mille alla chiesa cattolica e il restante 20% dalla parrocchia attraverso una raccolta fondi. I lavori sono stati consegnati nell'agosto del 2021 e la comunità finalmente oggi si è riappropriata di questo luogo simbolo con la celebrazione eucaristica ufficiata dal Vescovo Monsignor Antonino Raspanti. La comunità parrocchiale Maria Vergine della Catena in Maria Vergine di Santa Venerina scrive una pagina importante della sua storia. Ritorna in chiesa dopo quasi cinque anni dal terribile sisma del 26 dicembre 2018 che ha causato l'inagibilità del luogo. Grazie al notevole contributo dei fondi dell'otto per mille per l'80% sulla somma necessaria per la riapertura questa comunità ha fatto ingresso nella sua chiesa. Una comunità che si è dimostrata molto generosa perché ha dovuto raccogliere il restante 20% necessario per i lavori. Siamo davvero contenti il Vescovo ci ha incoraggiati a proseguire questo cammino e sotto lo sguardo di Maria Santissima della Catena patrona di questa comunità vogliamo incamminarci verso il suo figlio Gesù.